Musica Ben trovati con l'informazione sportiva di Molise TV In apertura parliamo di calcio, di Lega Pro Il mercato del campo basso è in continua evoluzione Il direttore sportivo Gianfranco Multineddu ha trovato l'intesa con l'ex catanzaro Federico Santa Guida Mentre prosegue le trattative con i due separati in casa, Giuliano e Marino E con un ulteriore calciatore di spessore il cui nome resta top secret Ma per tutte le ultime novità provenienti da Contrada Selvapiana Ascoltiamo il servizio d'apertura Il mercato del campo basso prosegue Il direttore sportivo Gianfranco Multineddu ha lavoro da metà luglio per la costruzione dell'organico rosso e blu Sonda ancora il mercato L'ultima firma in ordine temporale porta il nome di Federico Santa Guida Attaccante classe 1991 ex catanzaro Resta ancora sotto osservazione agli ordini dell'allenatore Edoardo Inbimbo invece L'ex Montichiari Nicola Catalano Così come continuano ad allenarsi il centrocampista Curcio E il giovane attaccante Marinucci Quest'ultimo proveniente dal fondi via Parma L'operatore di mercato De Lupe è ancora alla ricerca di un portiere under e di un calciatore d'esperienza Il corpo di mercato che chiuderebbe la campagna di rafforzamento della squadra di Mister Inbimbo Multineddu sta inoltre parlando con l'estremo difensore Errino Iuliano e con il centrale Daniele Marino Con i quali il direttore sportivo sta cercando un'intesa per la loro permanenza in rosso-blu Rumors riferiscono che le due intese non sono lontane Intanto dopo il successo all'esordio in campionato contro l'Inter Reggio C'è attesa per la prima trasferta stagionale I Lupi saranno impegnati a Mugnano di Napoli contro l'Arzanese Team già affrontato in Coppa Italia allo Stadio Romagnoli Il tecnico Inbimbo al fine di testare l'undici anti-Arzanese Ha programmato un test amichevole contro la Berretti del Lupo Allenata da Carmine Rienzo Occasione questa per vedere all'opera il campo acli Sia il campo basso di Inbimbo che i Bebi dell'ex allenatore Della Unires Nazionale dell'Atletico Trivento Con la scuola calcioacli che dopo l'accordo con il sodalizio giallo-blu Quest'anno collaborerà con la società del presidente Ferruccio Capone E sono partiti lavori di messa in sicurezza dell'antistadio di Contrada Selvapiana Per il momento ci si limita semplicemente a lavori di pulizia E risistemazione della rete di recinzione Ma vediamo il servizio Molise TV venerdì sera in anteprima Aveva fornito la notizia sulla chiusura dell'antistadio di Contrada Selvapiana Qui alle mie spalle per delibera del dirigente al ramo De Marco Dopo qualche giorno sono iniziate alcuni lavori di manutenzione straordinaria Ordinati proprio dall'ente comunale di Campobasso Per la messa in sicurezza e la messa a norma dell'impianto sportivo Adiacente allo stadio principale della città capologo di Regione Una ditta il cui nome è mantenuto top secret Proprio dagli operai della stessa azienda Che si sta occupando della rimessa a norma dell'antistadio di Contrada Selvapiana Sta provvedendo come si può vedere alle mie spalle A un lavoro di pulizia della parte adiacente all'antistadio Poi si passerà anche alla zona degli spalti Fino alla recinzione che sarà cambiata Recinzione che era stata danneggiata dopo le abbondanti nevicate Nelle operazioni di sgombero dalla neve Per questi lavori di manutenzione straordinaria Quindi se ne sta occupando il comune Mentre si attendono ancora quei lavori relativi alla messa a nuovo Dello stesso antistadio Ricordiamo sono stati stanziati circa 200.000 euro Più di un anno fa per la ristrutturazione dell'antistadio Che consentirebbe a tutti gli sportivi Campobassani Di poter giocare finalmente in quella che doveva essere La casa degli sportivi Campobassani e Molisani più in generale Per il momento ci si deve accontentare di un lavoro di pulizia E messa a sicurezza dell'impianto Poi nelle prossime settimane si spera Che potranno essere assegnati quei lavori Che faranno tornare il nuovo antistadio di Contrada Servapiana Ai suoi antichi splendori Assessore Colarusso Venerdì scorso la chiusura da parte del dirigente De Marco dell'antistadio A distanza di qualche giorno ci sono già le ruspe Assolutamente sì, stanno lavorando Ci siamo prolegati per far sì che subito Perché capiamo la necessità di chi utilizza quell'impianto Tantissimi ragazzini, tantissime squadre Stanno per iniziare i campionati Quindi la ditta sta al lavoro E credo 4-5 giorni Credo all'inizio della settimana prossima Marti mercati prossimo L'impianto sarà completato E quindi spero riaperto Non sono però quei lavori per i quali sono stati distanziati 200.000 euro? Assolutamente no, non eravamo nemmeno pronti, preparati per fare questo Sempre parlando del pato e stabilità Ritorniamo nella retorica Abbiamo messo soldi Ma abbiamo fatto un piccolo, chiamiamolo lavato di faccia Ieri anche Di Cristinzi è stato giù al campo con l'assessore Cimino Abbiamo fatto qualcosa per poter far sì che il campo venga riaperto e venga utilizzato Per i lavori secondo me ci vuole qualche altro mesetto Quindi per i lavori sia lo stadio che l'antistadio o per il momento non se ne parla? Ma io credo di no Non per nostra volontà ma per il famoso patto di stabilità E quindi mi auguro che i progetti sono pronti Mi auguro che al più presto Però i tempi io non riesco a decifrarli Calcio di serie D, stangata del giudice sportivo sull'Isernia Football Club Arteaco squalificato per due turni, una giornata di stop per Palumbo e 800 euro di ammenda Queste le decisioni del post Pesaro-Isernia Intanto arrecanati in avanti, mister Francesco Farina dovrebbe dare spazio al fantasista Donato Vinci Guerra Ascoltiamo il servizio curato per Molise TV da Vania Cristinziano Dopo il colpo duro subito in casa da l'Isernia La società bianco celeste cerca di ritrovare lo slancio iniziale per non perdersi d'animo Grande responsabilità a questo punto è affidata ai piedi di Donato Vinci Guerra Attaccante e tascabile che il dirigente sportivo Agliano Ha preso dai lupi in Molinaro e che vuole affiancare a Panico con l'obiettivo di trovare il gol Domenica ad attendere l'Isernia Football Club ci sarà la recana tese Farina sta facendo lavorare sodo i suoi ragazzi per dimenticare la sconfitta di domenica scorsa I bianco celesti dovranno fare a meno anche di Artiaco che ha rimediato due giornate di squalifica e Palumbo Fermato invece per un torno soltanto Dalla sua il tecnico Isernino potrà contare sul recuperato Fusaro che ha scontato un torno di stop Il giudice sportivo dopo i fatti di domenica scorsa a Lepiane ha anche afflitto una multa di 800 euro alla società bianco celeste Perché a fine partita persone non autorizzate sostavano l'ingresso dello spogliatoio Rivolgendo frasi offensive al direttore di gara Ancora calcio di serie D l'allenatore del Termoli Mimmo Giacomarro squalificato per due giornate Pensa a come rimodulare la difesa vista l'assenza di Maglione espulso nella gara di Roma contro la Strea I giallorossi cercano il riscatto contro il San Cesario Altra squadra romana che domenica arriverà allo stadio Carnassa Barna Baiannelli Non si placa l'amarezza e la rabbia sportivamente parlando in casa Termoli per le decisioni del giudice sportivo Dopo la settimana segnata dalla sconfitta la prima in trasferta contro la Strea Il giudice infatti dalla sede della FIGC nella giornata di ieri ha squalificato per ben due turni l'allenatore del Termoli Giacomarro E per una giornata il difensore Maglione Non sono tanto i provvedimenti che stupiscono il direttore generale di Siena quanto le motivazioni spiegate nel referto Si legge infatti che il mister Giacomarro è stato sospeso per due turni per comportamento non regolamentare Idoneo a suscitare reazioni violente nei componenti della panchina avversaria Di diverso avviso il direttore generale del Termoli che con le classiche dichiarazioni del giorno dopo Alza la voce e dichiara come il mister si è entrato in campo per sedare una rissa e allontanare un suo giocatore A differenza si legge del tecnico della Strea e del suo dirigente accompagnatore che aumentavano il parapiglia e gli screzi in campo A dimostrare l'obiettività di dichiarazioni dello stesso direttore generale del Termoli di Siena Le dichiarazioni dello stesso sulla sanzione di Maglione Spiega infatti dovevano essere due le giornate di squalifica per il nostro difensore e non una come segnalato dal giudice sportivo Se l'espulsione doveva esserci e se l'espulsione si trattava Maglione è stato allontanato dal campo di gioco per una gomitata che gli è costata l'espulsione per gioco violento E non tanto per fallo da ultimo uomo Dichiarazioni queste che lasciano non solo l'amaro in bocca per i giallorossi Quanto all'augurio e alla speranza che motivazioni per provvedimenti simili non si ripetano in futuro Domenica al Cannarza di Termoli arriva il San Cesario La squadra è concentrata e il gruppo compatto in vista della sfida è caricato dall'ambiente molisano I tifosi giallorossi si augurano di ripartire con una vittoria per riprendere subito in mano le sorti del campionato E parliamo ancora di calcio di Interregionale Il direttore sportivo dell'Olimpia agnonese Maurizio Sabelli Sonda il mercato a caccia di un difensore esperto ma a buon mercato I Granata di Urmano domenica viaggeranno alla volta di Celano per la seconda giornata di campionato Ascoltiamo ancora Vania Cristinziano Dopo la brillante prestazione Granata contro la Civitanovese e formazione favorita del Girone F Lo staff dell'Olimpia potrebbe pensare di rivisitare la Rosa Il mercato per la società alto molisana non è quindi ancora chiuso E infatti il dirigente sportivo Maurizio Sabelli si guarda intorno alla ricerca di un nuovo volto Che potrebbe rendere più accattivante il gioco della squadra Da tempo infatti si parla di Dudu che già nei mesi scorsi è stato accostato a Granata Ma al momento tutto è fermo Da domenica torna in campo Scampamorte e si vedrà E parliamo ancora di calcio ma scendiamo di categoria Campionato di eccellenza Il Boiano che punta al ritorno in Serie D ha perso l'attaccante Sebastiano Ruggero Che per motivi familiari ha lasciato il club bianco-rosso Per sostituire l'ex Olimpia agnonese si pensa a Sandro Bonanno In trattativa anche con il Campobasso 1919 Oppure al ritorno di Monaco di Monaco Attualmente in forza al sesto campano Non è escluso però che il direttore sportivo Marcello Nardelli opti per una soluzione diversa E parliamo ancora di calcio di eccellenza Sarà un Venafra ancora più giovane rispetto all'ultima stagione Quello che si appresta ad iniziare il prossimo massimo torneo regionale L'allenatore Roberto De Sanctis avrà il suo bel da fare per raggiungere la salvezza diretta Nel servizio di Barnabà Iannelli Ascoltiamo il giovane Ruocchio in gol nell'ultima partita di Coppa Italia Si chiama Niki Ruocchio La sorpresa del nuovo enafro targato De Sanctis L'attaccante classe 95 si è messo in luce nelle prime uscite stagionali dei bianconeri Prodotto del vivaio Venafrano il baby Ruocchio ha realizzato ben 134 reti tra giovanissimi allevi regionali In quattro stagioni dal 2007 e 2008 ad oggi Ed è pronto ad esplodere nel massimo campionato d'eccellenza regionale Attaccante che si muove spesso sul filo del fuorigioco Dialoga tantissimo con i compagni e cerca sempre o quasi la profondità Ruocchio è e può diventare in questa stagione utilissimo alla causa del mister Venafrano De Sanctis Non c'è da basarsi sulla giovanità dell'attaccante Sarebbe un errore infatti credere anche solo per un momento che l'inesperienza possa giocargli un tiro mancino Ruocchio infatti ha dimostrato nelle prime uscite stagionali una personalità fuori dall'ordinario In campo ed è pronto all'esordio domenica in trasferta a gamba tesa Quasi sicuramente partirà titolare al fianco dell'altro bomber Riccitiello Il mister Venafrano infatti è pronto a riporre in lui la massima fiducia in vista del campionato Nell'ultima uscita del Venafro in Coppa Italia contro il Vinchiaturo Ruocchio è stato determinante e ha sbloccato il risultato a favore del Venafro nel momento più difficile dei suoi Nel post gara l'abbiamo avvicinato per avere dichiarazioni a caldo sul match e sul suo futuro Il primo tempo abbiamo giocato molto bene Poi il secondo tempo a causa di un paio di infortuni Un altro infortunio anche in difesa Siamo rimasti senza giocatori Noi siamo una squadra che stava in campo con molti 95, 96, 94, molti under Abbiamo provato a conquistare, abbiamo grindato e abbiamo riuscito a lottare e a vincere Come ti trovi con il tuo allenatore, con il tuo mister? Il rapporto com'è? Mi trovo molto bene, questo è il primo anno che mi allena e proviamo di trovarci L'auspicio dei tifosi venafrani è che il ruocchio raggiunga la doppia cifra di marcature quest'anno Per lanciare il bianconeri nelle zone alte della classifica Cambiamo argomento, parliamo di calcio a 5 di Serie B Marco Sanginario, riconfermato sulla panchina della 5 Campobasso per il secondo anno consecutivo L'anno scorso è subentrato in corsa a dicembre e ha portato il quintetto campobassano alla salvezza Quest'anno si parte da settembre, dall'inizio del campionato alla guida della 5? Sì, partiamo da settembre con lo stesso entusiasmo di sempre Lo scorso anno sono partito a dicembre, ho preso una squadra che era in buono stato L'unica cosa è che abbiamo avuto delle cessioni importanti durante il mese di dicembre Nonostante siamo rimasti con quasi tutti italiani, siamo comunque riusciti a ottenere l'obiettivo primario Che era la salvezza, ma addirittura abbiamo lottato fino all'ultima giornata per qualcosa di più importante Infatti abbiamo fallito i playoff per soltanto due punti A vantaggio ne è andato il Venafro, la Scarabbeo, che è riuscito a ottenere questi playoff Quest'anno è cambiata la politica della 5 Campobasso, infatti si è scelto di non ricorrere all'innesto di giovani stranieri Pensi, come diceva lei, tutti italiani e anche molti del posto, anche molti giovani del posto? Sì, diciamo che è stata una scelta dettata da un budget economico che è stato più che ridotto rispetto allo scorso anno Il calcio rispetta un po' quella che è la crisi generale Ma non per questo partiamo svantaggiati È chiaro, l'obiettivo della salvezza sarà decisamente più complicato da raggiungere Con tutta gente del posto che ovviamente non parliamo di persone, di professionisti Però credo di avere un buon gruppo nelle mani e credo che riusciremo a lottare fino alla fine Una cosa sarà certa, venire e fare i punti a Campobasso, credo sarà difficile un po' per tutti A breve inizierà la preparazione, come sarà organizzata e per raggiungere quale obiettivo stagionale? La preparazione partirà lunedì e partiamo agli ordini del preparatore atletico di parte del Brandoni Colgo l'occasione per ringraziarlo e ringraziare anche lo Sporting Club dove ci appoggeremo per la preparazione Da lunedì partiamo con una doppia seduta, il pomeriggio in balestra allo Sporting E poi la sera invece saremo sul nostro campo dove giocheremo le partite in casa, cioè allo Sturzo Per quanto riguarda gli obiettivi, gli obiettivi sono sicuramente quelli di una salvezza Speriamo una salvezza tranquilla ma credo che sarà difficile Per cui lotteremo fino all'ultima giornata per strappare questa salvezza E per salvare per il terzo anno consecutivo il titolo della Serie B a Campobasso E sempre per il calcio a 5 di Serie B, nuovi ingressi al fianco dell'Isernia Dopo Nicola Cesare e anche l'imprenditore Vittorio Favellato e l'ex dirigente dell'Isernia Calcio Roberto Di Baggio Hanno sposato il progetto del presidente Antonio Di Franco Sabato intanto la squadra bianco celeste sarà di scena in amichevole a Città Sant'Angelo Per sfidare l'Acqua e Sapone, team di Serie A1 E torniamo al calcio, campionato di prima categoria Presentazione in serata per il cerce maggiore dell'allenatore Peppe Duva Il team Fortorino sarà in astri di partenza della prima categoria Con obiettivi ambiziosi e saranno presentati domani sera a partire dalle 19.30 All'hotel Roberto Di Castro Pignano i calendari di prima e seconda categoria Il cui inizio è fissato per sabato 22 e domenica 23 settembre E chiudiamo il nostro notiziario sportivo con l'atletica leggera Sarà presentato domani a partire dalle 12 presso il comune di Sernia Il Memorial Liborio Fraraccio, meeting nazionale di atletica leggera Organizzato dalla nuova atletica Esernia E che si svolgerà domenica a partire dalle 16 allo stadio Lancellotta del Capoluogo Pentro Bene, questa era anche la nostra ultima notizia Io vi ringrazio per la cordiale attenzione Vi auguro un buon proseguimento con le trasmissioni di Molise TV Grazie a tutti